Nei prossimi giorni il giudice del Tribunale di Teramo sarà chiamato ad esprimersi sulle richieste avanzate dal commissario straordinario di Banca Tercas, Riccardo Sora, per quello che riguarda l'azione legale di recupero nei confronti degli ex amministratori dell'Istituto di Credito per oltre 100 milioni di euro. Questa è la richiesta dei legali di Sora. Adesso, come detto, spetterà al giudice stabilire quanto e come il risarcimento dovrà avvenire. La preoccupazione che comunque resta da parte del gruppo che faceva parte degli ultimi due consigli di amministrazione di Tercas è leggermente diminuita una volta scoperto che esiste una polizza assicurativa che copre proprio questi casi. In pratica, al momento della nomina l'amministratore veniva coperto da una polizza sottoscritta proprio dall'Istituto di Credito che lo metteva al riparo da eventuali rischi che poteva correre nella sua gestione. Sembrerebbe, anzi è quasi certo, che anche in questa circostanza l'assicurazione copre il rischio, non nella totalità delle cifre richieste da Sora, ma in una buona parte, quasi il 50% o in misura minore di quanto richiesta. Dipende dalla cifra. Ecco allora che chi ha avuto la richiesta minima, intorno ai 13 milioni di euro, se il giudice dovesse abbassare la quota potrebbe anche non dover pagare nulla perché è totalmente coperto dal massimale della polizza. Ma sapete qual è il dato più curioso della vicenda? Che il premio assicurativo lo pagava ogni anno proprio la Tercas. Dunque la banca pagava per mettere al riparo gli amministratori per gli eventuali danni che avrebbero potuto arrecare allo stesso istituto. Per quello che riguarda invece i risparmiatori e i clienti, come dire, cornuti e mazziati?